Signori miei, non c'è dubbio che la signora Vaccari in due settimane le farà diventare delle puttane di primordine. Non c'è nulla di più contagioso del male. Lei è eccellenza mio vice in errore. C'è gente che non riesce a comportarsi male se non quando la passione le spinge al male.